Nei primi nove mesi del 2017, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il mezzogiorno fa registrare un incremento di quasi 109.000 occupati, gran parte dei quali ben 65.000 unità, concentrati in due regioni, Campania e Abruzzo, mentre in Basilicata il numero degli occupati è addirittura in calo di 3.800 unità, un dato sconfortante che la dice lunga sulla incapacità della nostra regione di sfruttare il vento della ripresa che da più di un anno soffia sul sud del paese. A dichiararlo è il capogruppo di Forza Italia Michele Napoli, con riferimento al tradizionale studio elaborato da Confindustria sullo stato di salute del mezzogiorno d'Italia. I dati poco lusinghieri della Basilicata sul fronte dell'occupazione, dice Napoli, confermano quanto sia fallace l'idea che il lavoro si possa creare per legge, laddove le dinamiche occupazionali sono effetto della crescita economica guidata dalle imprese, nelle cui mani risiede la capacità di innovazione dell'economia e alle cui esigenze deve essere indirizzata la spesa pubblica per investimenti ferma sui minimi da molti troppi anni.